Vuoi diventare un difensore professionista oppure semplicemente vuoi migliorare il tuo stile difensivo? Bene, se capitato sul video giusto ascoltami fino alla fine e ti prometto che farai le passi da gigante. Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale, in questo nuovo video andremo a vedere 3 aspetti per diventare un difensore professionista e quindi per migliorare su come difendere nel luogo contro 1, nel luogo contro 2 e nei contrasti barra scivolate. Ci saranno una serie di consigli che vi aiuteranno molto nel migliorare lo stile difensivo, ma prima di partire col video vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like e commentare col prossimo video che vorreste vedere. Nel luogo contro 1 ragazzi il primo consiglio che posso darvi è quello di non uscire subito sull'uomo se andate contro un avversario molto bravo, perché potrebbe saltarvi secco con una finta. L'ideale è aspettare l'avversario a circa un metro di distanza mi raccomando e mantenere la posizione di lato, quindi non di fronte, ma di lato e successivamente la cosa che vi consiglio è di saltellare sulle punte. Se noi saltelliamo sulle punte sarà molto più semplice perché saremo già in movimento ed essendo di lato saremo pronti a scattare su uno dei due lati dove andrà l'avversario. secondo me una cosa fondamentale è quella di osservare bene il pallone e non abboccare le finte di gamba perché secondo me dobbiamo essere in grado di vedere il momento in cui la palla si stacca dal piede di qualche centimetro e in quel momento noi dobbiamo affondare col piede e togliere il pallone all'avversario, perché se noi lo facciamo prima l'avversario sposta palla e ci supera, se noi invece vediamo il momento in cui l'avversario si allunga palla, quindi facciamo un passo indietro se sappiamo che l'avversario fa spesso delle vinte, in quel caso appena ci sentiamo sicuri facciamo quel passo avanti con la gamba e gli rubiamo palla, oppure semplicemente gli togliamo dai piedi. In questo modo arrestiamo l'azione di gioco dell'avversario. Secondo me un'altra cosa molto importante è come ho detto prima la distanza perché con la mano più vicina all'avversario non dobbiamo coprire la palla, se noi copriamo la palla significa che siamo troppo vicini, quindi nella visuale vediamo la mano sovrapposta al pallone, è un effetto ottico che però ci può aiutare perché se noi siamo bravi in questo caso nell'osservare la distanza poi sarà facile riuscire a non abboccare alle finte e quindi rubare palla. L'uomo contro uno è fondamentale perché è un'azione spesso ripetuta all'interno del gioco, secondo me una delle cose più importanti è cercare di mandare l'uomo o sul piede debole o sull'esterno, quindi sul piede debole perché se l'uomo va sul piede debole non potrà calciare nel migliore dei modi e quindi a parte che sarà difficile che vada sul piede debole se col piede debole non è fortissimo quindi tenderà ad andare comunque sul piede forte, noi aspettiamo già su quel lato e gli ruberemo palla facilmente. Invece il discorso di mandarlo sull'esterno è perché se noi lo mandiamo verso il centro si trova la posizione centrale e ha diverse opportunità per calciare. Ha diverse opportunità di calciare perché potrà calciare col tiro a giro di potenza, vedrà tutta la porta praticamente. Se noi invece lo mandiamo sull'esterno l'uomo dovrà calciare probabilmente in diagonale perché il primo palo lo copre il portiere, oppure si troverà in una posizione vicina alla linea di fondo quindi dovrà per forza metterla in mezzo. Noi copriremo e nella peggiore ipotesi quando andiamo a non calciare con gli avversari però intanto ci siamo difesi benissimo. Passiamo invece ora al 1 contro 2 che è la situazione più difficile perché gli avversari sono in superiabilità numerica e quindi sarà facile per loro gestire la situazione. In questa situazione non è sempre facile tenere botta perché se gli avversari sono bravi sicuramente avranno modo di gestirla appunto nel migliore dei modi però noi dovremo cercare di mantenere una posizione intermedia tra i due giocatori perché se noi marchiamo un uomo senza palla, l'uomo con la palla va in porta. Se noi marchiamo solamente l'uomo con la palla la passa a quello libero e va in porta. Quindi secondo me la cosa migliore è essere in una situazione intermedia quindi andare verso l'uomo che ha il pallone ma non dare lo spazio verso il centro. Quindi andiamo sull'uomo con la palla ma ci mettiamo col corpo in modo di non permettergli il passaggio. Quindi in questo caso l'uomo tenterà il dribbling e lì noi dovremo essere bravi a capire poi come ho detto prima nella situazione di 1 contro 1 quando allungare il piede e quando fare il passo indietro. Se noi riusciamo a capirlo possiamo fermare l'uomo e arrestare la situazione. Oppure semplicemente temporeggiamo perché se noi temporeggiamo intanto i nostri compagni torneranno sperando che tornino e quindi poi la situazione sarà di parità numerica. Adesso vi dico un consiglio speciale, una cosa che spesso faccio io nell'1 contro 2 quando difendo ovvero se mi trovo vicinissimo all'avversario che ha la palla, quindi il portatore di palla e quindi siamo vicini. A quel punto dovete essere bravi, questo con l'esperienza a forza di giocare viene, dovete essere bravi a capire quando sta per passare il pallone. Dovete guardare il movimento del piede. Io per esempio mi piego e con la gamba di rigamo riesco poi a respingerla e quindi la palla non arriva a destinazione. è difficilissimo perché non sempre viene, c'è il rischio magari di piegarsi, l'avversario fa la finta e se ne va. Però a forza di giocare vi assicuro che riuscirete a accorgervi poi dal movimento del piede se l'uomo passa o no il pallone oppure se fa la finta. Questo verrà poi da sé ma è normale come tutte le cose, a forza di giocare poi verrà spontaneo. Prima di continuare mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un like e un commento. Mi raccomando chi condivide e si iscrive sarà salutato nei prossimi video quindi tengo conto di chi lo fa e premerò appunto chi lo fa. Quindi mi raccomando massimo supporto per il canale. L'ultimo aspetto che voglio mostrarvi oggi scivolata e contrasto con i piedi. Allora la scivolata ragazzi è un aspetto difensivo fondamentale perché normalmente è la miglior chiusura per togliere la palla dei piedi del difensore soprattutto in una situazione disperata tra virgolette. Diciamo che è anche la soluzione più rischiosa, infatti viene utilizzata nei momenti in cui ce n'è proprio bisogno perché se noi la facciamo quasi sempre poi rischieremo i cartellini e troppi falli in favore dei nostri avversari. Quindi la miglior cosa è utilizzarla nel momento in cui siamo sicuri dobbiamo sentirci di riuscire ad arrivare sul pallone e mi raccomando quando vediamo che l'uomo ormai è arrivato sul pallone dobbiamo essere bravi a fermare il piede. Magari qualcuno di voi fa fare lo stesso perché preferisce fermarlo però così si rischiano i cartellini. Quindi la miglior cosa è fermarsi soprattutto se si è a centrocampo oppure se dietro ci sono dei altri compagni che possono contrastare l'avversario. La scivolata mai col piede al martello altrimenti si prende rosso e la cosa migliore è arrivarci con la punta perché la punta o magari di gollo se ritrovate meglio mai a due piedi o a un piede solo e cercare di allungarvi il più possibile. Quindi fate tanto stretching prima della partita dopo il riscaldamento e dovete allungare bene la punta e anticipare l'avversario. È una questione di prenderci il tempo, allenatela bene nell'allenamento e usatela soprattutto nei momenti in cui è ben richiesta e non per situazioni a centrocampo inutili e come spesso succede per un difensore bravo nel momento in cui la palla è abbastanza distante dall'avversario perché se la facciamo con la palla attaccata all'uomo poi diventa difficile, diventa veramente difficile. Però questa situazione se fatta in modo corretto secondo me è la più efficace. Per quanto concerne invece il contrasto con i piedi il contrasto con i piedi questo è invece ottimo quando la palla è vicina ai piedi del nostro avversario e bisognerà entrare decisi, soprattutto osservare bene sempre il pallone e mai l'avversario perché l'avversario potrebbe vintare col corpo o con le gambe e in questo caso è la situazione migliore quando l'uomo si trova vicino a voi perché l'uomo tenterà un dribbling ma è vicino quando sembrerà ormai chiuso noi proviamo il contrasto con i piedi e dovremmo essere bravi a rubare palla oppure semplicemente toccarla e nel momento in cui la palla è contesa utilizzare il fisico soprattutto se siete di pensori fisici con il braccio opposto al piede quindi se siete destri proteggere la palla col destro e col braccio mancino allungare il braccio e cercare di tenere a distanza l'avversario il braccio tenere sul petto senza spingere ovviamente e cercare di tenerlo a distanza secondo me è la miglior cosa perché comunque riuscite a prendere tempo e poi giocarla con i vostri compagni quindi ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi lasciate un commento col prossimo video che vorreste vedere mi raccomando condividete, chi lo farà sarà salutato nei prossimi video cerchiamo di salire presto con gli iscritti mi raccomando e ci vediamo al prossimo video, bella! Ciao 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 Grazie a tutti